L'amore è inteso come tutto ciò che ci piace, che ci fa stare bene, che è un concetto che è presente in tutti i dischi. Quindi nell'assoluta e totale libertà della propria ricerca personale, anche un po' perversa, della felicità. Quindi cercare di fare tutto all'istante, anche ciò che appunto ti può portare a non essere vincente, ma che in quel momento ti serve per essere felice quei 5 minuti che nella tua vita sono i più importanti.